tais terhorst anche lui tornato a perugia dopo gli impegni con la nazionale intanto bentornato uno della vecchia guardia insomma della passata stagione come stai intanto sei contento di essere tornato a pala barton se sono contento di essere tornato qua dopo l'anno scorso spero che quest'anno possiamo fare ancora meglio quindi si sarà interessante senti siete in tanti della scorsa stagione ma anche tante novità no lo staff tecnico nuovo tanti alcuni compagni nuovi che alcuni già conosciuti conosciuti qua che impressione ha avuto insomma un po di tutto dell'ambiente dello staff sono andato subito bene sai è stato speciale tornare qua stamattina come hai detto vedere tanti ragazzi di l'anno scorso ma anche tanti nuovi acquisti quindi no è stato bello senti velocemente la tua estate con la nazionale quarti di finale che era un risultato ai europei mai raggiunto da dall'olanda ma qualche rimpianto c'è si è stata un'estate lunga con la qualificazione prima europea poi vuole sì dopo c'è stato l'europeo dove abbiamo fatto abbastanza bene come detto stato tanti anni che non abbiamo raggiunto questa posizione poi alla fine stiamo sempre rimasto la sensazione che forse c'era qualcosa in più ma sempre un passo avanti e noi siamo contenti ovviamente insomma l'italia eh si è laureata campione d'oropa torniamo a perugia eh squadra ambiziosa eh tanti grandi giocatori che sono rimasti tanti grandi giocatori che sono arrivati avversari rinforzatissime ne abbiamo parlato anche con i tuoi compagni no durante questo mese che stagione sarà tais sì come detto quest'anno pensavo già che l'anno scorso era un campionato molto interessante forse quest'anno ancora di più eh sì ma dipende anche tanto da noi come ha detto abbiamo scatto molto forte e possiamo vincere tutto quindi questo è il nostro obiettivo senti l'ultima cosa eh fuori onda non l'hanno visto insomma c'era ole qui che scherzava un po l'hai trovato maturato adesso che è diventato papà ole blotnischi oleg maturato mai secondo me grazie tais ciao a tutti oggi sono io a blog davis tv con noi tais terhorst prima domanda e come giochiamo possono vedere questa stagione un grande giocatore plot horse o no secondo me sì plot horse sarà sicuramente qualcosa speciale quest'anno e grazie mille questo è importante per tutti i blog devils e sirva 10 ciao a tutti